Ciao gamer, benvenuto a PokéGamers Pro! Oggi è il 24 per me, quindi aree natalizie anche se sono vestito di nero perché per me il Natale non esiste Niente, sono il Grinch praticamente, no, comunque sia, oggi è il 24 e oggi andiamo a vedere la battaglia di Kaneki Che conosco, in realtà, non ho visto l'anime però lo conosco come personaggio, eccetera, eccetera, oddio, Tokyo Ghoul Sì, comunque sia, andiamo subito a vedere la battaglia Ok, quindi, io non sento l'audio, ah giusto, scusatemi, eccolo qua l'audio Galvencela, adesso l'ho alzato un po' troppo perché sono sveglio Ok, scusate, Galvencela contro Tangela Non è Tangela, è Tangru, sì, Tangela, è l'evoluzione di Tangela Ok, super efficace e Tangela Vacheo Tangru, non mi ricordo, vabbè, quello Vacheo Dragonite Mi stavo aspettando una rete vischiosa, infatti, però A quanto pare è ora il momento di setupare la rete vischiosa Dragonite usa terremoto Un Dragonite con terremoto, un pochettino insolito, devo dire Extra rapido di Dragonite che manderà Menafi, un secondo che cerco, Menafi Coda di luce Non mi ricordo cosa faccia a coda di luce Ah, sì, giusto, aumentava l'attacco speciale Sì, aumentava l'attacco speciale Menafi Terremoto di nuovo Non farà molto Considerando comunque che Menafi dovrebbe essere anche Dovrebbe avere un pochettino di bulkiness in difesa Avanzi Psichico Farà male Non... Vabbè, c'era anche L'abilità di Dragonite Multisquama Ok, quindi Dragodanza da parte di Dragonite Guerra al setup Dragonite usa Dragartigli Con lo stab Non è sufficiente a mandare KO Dragonite Geloraggio di sicuro lo manderà KO però È un 4 per e senza l'abilità Ok, quindi probabilmente Kaneki ha deciso di utilizzare Psichico su Dragonite Per Non far proccare l'abilità E la vulnero polizza Perché probabilmente quel Dragonite Avrà avuto la vulnero polizza Ok La rete vischiosa Diminuisce la velocità di Di Crobat E Verrà colpito da un Geloraggio Che andrà che No, era uno Zoroark Che andrà che io Comunque sia Ah, giusto, perché sarebbe stato volante Quindi la rete vischiosa Non avrebbe dovuto funzionare Giusto Ps con gli avanzi Ambryon Adesso comincia la parte Stolli della battaglia Me lo sento Rete vischiosa su Ambryon Questo Manaphy comunque sta facendo Un sacco di Di disastro Idrovampata Che toglie Metà vita praticamente Ripicca Che manderà KO Manaphy E adesso comincerà la battaglia Lo Stolling Secondo me Io Apprezzo Ambryon Devo dirlo Cioè Nel senso che È uno dei miei Pokémon preferiti Se non il mio Pokémon preferito Il problema è che È tanto Stolli Ambryon Peccato Cavolo Ok Ah Mega Bidrill Oddio Aiuto aiuto Mega Bidrill Eccolo qua Mega Bidrill E abbiamo Golbat questa volta È il vero Golbat Protezione da parte di Bidrill Che fallisce Retromarcia Che farà male Considerando le statistiche Di No non fa nulla Giusto perché Volanzi Sono Sì sì Sono sveglio io Non farà nulla Mandibuzz Ok quindi abbiamo L'altro uccellaccio Tencosissimo Anche io usavo Mandibuzz Perché è troppo Tencoso Ok Baldi Ali Che non farà nulla Vi torse l'elmo Aia Avanzi Ah no Fango Pecce Ok Retromarcia Da parte di Crobat Che non farà molto Ah giusto Io dovevo Mettermi Mandibuzz Io sono sveglio Scusate Gamer Scusami Devo ancora Aiuto Aia Aiuto Tu non stai vedendo niente Gamer Ok Sono Sono sveglio io Ok ho visto che qualcosa Non è stato molto efficace Ed era un brutto colpo Oggi sono davvero distrutto Sono stanchissimo Tossina Su Ambrian Che Trasmetterà L'avvelenamento Anche su Mandibuzz Probabilmente Grazie a sincronismo Appunto Qui comincia Allo stalling Desiderio Se non sbaglio Quando si è Iperavvelenati Ci sono otto turni Prima di andare che io Perché era Un sedicesimo Un ottavo Un quarto E un mezzo No cinque turni Forse O quattro Non mi ricordo Con precisione Quanti turni erano Per mandare che io Direttamente Un pokemon Chansey Ok Chansey Eccoti qua Ma perché Oddio Ho il programma Che mi ha perso Il settaggio Scusate Scusami gamer Ok Chansey Chansey naturalmente Ultra Bulcosissimo E avrà probabilmente Anche levio light Gallade Quindi Mi sa che ci sarà Un mega gallade No Levito roccia Quindi sia Rite vischiosa Che levito roccia Un po' tardino Per il setup Di Di levito roccia Però Beh Considerando Quello che è stato fatto Prima Da manafi Eccetera Direi che Più che sufficiente Mana fading E no Oddio Aiuta Mandibuzz Ok Eccolo qua Mega gallade Naturalmente Lo switch Di Chansey Perché avrebbe subito Una zuffa Appunto Probabilmente L'avrebbe mandata Che io Nonostante Tutta la Vulcaness Ok Zuffa Non manda Che io Mandibuzz Perché Mandibuzz È un champion Cioè È troppo Tencoso Però È avvelenato Quindi rimane Con 8 Di vita E Gallade Viene Ritirato Della lotta Mi chiedo Perché Perché Adesso Probabilmente Arriverà Un trespolo Forse Sarebbe Stato Più Non so Ah infatti Trespolo Da parte Mandibuzz Forse Sarebbe Stato Più Intelligente Mandare Che io Mandibuzz Direttamente Per l'avversario Questo Non so Non capisco Come mai C'è stato Lo switch Istantaneo Così Vabbè Comunque sia Il veleno Continuerà A colpire Mandibuzz E colpirà Anche Ambryon Naturalmente Tre suolo Da parte Mandibuzz Quindi abbiamo Ambryon Che usa desiderio Per curarsi Mentre Mandibuzz Può farlo Istantaneamente E infatti Ecco il desiderio Di Ambryon Ci troviamo Davanti A due Pokémon Ultratencosissimi Mandibuzz Viene Switchato Con Chansey Di nuovo Ok Ambryon Viene ritirato Alla lotta E torna Mega Gallade Questo Chansey Deve per forza Prendersi una Zuffa Per andare giù In un colpo Probabilmente Ed è per questo Che L'avversario Sta Utilizzando Sta cercando Di Counterare Chansey In qualunque Momento Possibile Il desiderio Di Ambryon Si avvera Zuffa Su Chansey Lo manderà Che ho 30 PS Giusto Giusto Per sopravvivere Probabilmente Qui è stata La vita Di Chansey Che è riuscito Ad assicurarsi Di sopravvivere Con così pochi PS Avvelenamento Su Gallade E Gallade Viene ritirato Dalla lotta Strano Strano Di nuovo Un altro switch Un pochettino Ambigo Perché probabilmente Adesso arriverà Qua uovo Protezione Strano Forse L'avversario Ha giocato Su questa cosa Della protezione Però In teoria Chansey È più veloce Di Ambryon Perché Ambryon È stato anche rallentato Chansey Usa Desiderio Non aveva Non ha cova uovo Questo Chansey Ambryon Usa Desiderio È un po' Ambigua Questa cosa Del desiderio Perché Ambryon Vabbè comunque Gli manca metà vita Però Cioè Sarebbe Sarebbe Era qualcosa Di prevedibile Il desiderio Da parte di Il desiderio Il desiderio Protezione Da parte di Chansey Quindi Protezione Da parte di Chansey Che si correrà Di metà vita E Ambryon Che si Re full Chansey Rientra E abbiamo Talonflame Desiderio Di nuovo Da parte Di Ambryon E Ambryon Subirà Il danno Da parte di Appunto Tossina Retromarcia Su Ambryon Farà male Non è sufficiente A mandarlo Che io Però Adesso il desiderio Gli ridarà vita Ci sono Un pochettino Di switch Che Personalmente Non Non penso Che Siano così Necessari Certo Un ripicca Su Talonflame Avrebbe fatto male A proposito Di Talonflame Mandibus Avrebbe fatto male È vero Però Non così Tanto Cioè Non so Anche perché Adesso appunto Il desiderio Più gli avanzi Che lo occorreranno Un bel po' Nonostante ci sia L'avvelenamento Naturalmente Che toglie un bel po' Di vita Mandibus Rientra E arriverà A bidrill Talonflame Talonflame Desiderio Di nuovo Probabilmente Arriverà una protezione Non ho visto Le Io fino ad ora In quest'ombra Non ho visto Ripicca E desiderio Mi sa che Non ho visto Altre mosse Probabilmente Ci sarà protezione Perché È una combo Troppo utilizzata Desiderio Protezione Però L'avvelenamento Lo manda che io Quindi c'è stato Un Un errore di calcolo Da parte dell'avversario Sul danno di tossina Crobat Roccia e guzze Che fanno male Baldeali Su crobat Che andrà che io Assolutamente Se non sbaglio Se non sbaglio Manca solamente Un pokemon All'avversario E questo pokemon Chi era? Galade Giusto Galade Che si beccherà Un Un baldeali In faccia E Sentirà un po' Di dolore Diciamo Perché Talonflame È ben conosciuto Per il danno Di baldeali Che poi ho sentito Che su sun e moon In realtà Io non Ho cercato di informarmi Meno possibile Perché non voglio spoiler Però ho sentito Che su sun e moon È stato nerfato Tantissimo Tipo talonflame Non so Boh Comunque sia Galade va che io Dopo un Baldeali Di talonflame E Che aneki Vince così La battaglia Ci sono un pochettino Di cose Forse che avrei Che mi sarei appuntato Cioè nel senso Ci sono state Un po' di switch Un po' ambigui Più dall'avversario Che da kaneki Perché kaneki Meno male Aveva un team tank Quindi poteva anche Permettersi alcuni switch Un pochettino strani Insoliti Però ci sono state Le switch Che sono costati Secondo me La partita Dell'avversario Comunque sia E poi vabbè Non ho Non ho visto abbastanza Mega Beedrill Perché mi sarebbe piaciuto Avvero Mega Beedrill È uno di quei pokemon Che quando è uscito Era tipo Ultra ipato Però poi alla fine Non era così forte Quindi Mi sarebbe piaciuto Vedere un pochettino Di più di Mega Beedrill Però pazienza Comunque sia gamer In descrizione Trovi tutto il necessario Per mandarci la battaglia Quindi trovi La differenza tra Pokegamers Pro Pokegamers Lite Il tutorial Il tutorial su come Mandare il tuo codice E come compilare il phone Su pokegamers .guideconsole.it E mi raccomando Ricordati sempre Di andare a votare Per appunto Le battaglie In modo che io Possa prendere sempre Le battaglie più fighe Migliori dal mondo Per pokegamers Però Comunque sia gamer Ti auguro un buon Natale Anche se questo video Sarà uscito Ben oltre Natale Però per me Oggi è il 24 Quindi ti auguro Un buon Natale E ci vediamo Alla prossima Ciao gamer Ciao gamer